A Santa Maria Capuavetere, sul luogo della Capo Etrusca, sannita e romana, sorge l'Anfiteatro Campano. La struttura risale al primo secolo dopo Cristo. L'Anfiteatro ospitò una scuola di gladio e di teatro. Guardando la struttura è possibile individuare il criptoportico ed il campidoglio. Facevano parte dell'Anfiteatro notevoli strutture termali. Per dimensioni ed importanza l'Anfiteatro Campano era paragonato a quelli di Roma e di Verona. La struttura è caratterizzata da quattro ordini architettonici, di cui il primo tuscanico ed il secondo dorico. Nereidi e Tritoni animano un grande mosaico posto all'esterno dell'Anfiteatro. Nereidi e Tritoni animano un grande mosaico posto all'Anfiteatro. Nereidi e Tritoni animano un grande mosaico posto all'Anfiteatro.